Buongiorno e benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 14 agosto. Ero molto in dubbio se farla o non farla questa rassegna stampa per quello che sta avvenendo a Genova. Quello che avviene a Genova è molto semplice nella sua drammaticità, e cioè un ponte sulla 10 è semplicemente crollato, un ponte sull'autostrada, un ponte su Genova. Ancora qua stiamo a discutere di Salvini, stiamo a discutere di Saviano, stiamo a discutere se aprire una nuova infrastruttura che ci porti proprio da Genova al Piemonte e alla Lombardia. Siamo qui a discutere insomma del nostro futuro quando non ci rendiamo conto che il nostro passato, che ci hanno lasciato i nostri nonni più che i nostri padri, penso quelli che hanno ricostruito l'Italia dopo la guerra, sta crollando. Le cose si devono manutenere, si devono pensare del futuro. Invece siamo qui che ci facciamo le pippe litigando l'uno con l'altro su che cosa è il modo migliore per poterci mangiare quello che i nostri nonni ci hanno lasciato. È una piccola considerazione che vi voglio fare e soprattutto una piccola considerazione che nasce anche dalla impotenza di dover commentare i giornali di oggi con questa drammaticità che secondo me indipendentemente dai morti e dalle vittime è una drammaticità che dà plasticamente l'idea che non cade a pezzi, poi ci sarà qualcuno che attaccherà questo governo e fa male, qualcuno che attaccherà quello precedente e fa male. Il problema è che all'inferno si scende a piccoli passi e nell'inferno di un'Italia che invece di pensare al futuro cerca di godersi un passato che non ha più, siamo scesi da 20 anni, 30 anni, 40 anni. Fatela come vi pare, in realtà un po' ci sta, gli Stati Uniti sono pieni di ponti che cadono, ma insomma questa è l'Italia che ci troviamo. Se i giornali per il resto ovviamente oggi che cosa volete che ci sia? C'è intanto la grande crisi turca, altro grande paradosso se volete, noi oggi parliamo della crisi turca e delle aziende italiane che avranno problemi in Turchia, una di queste è la Staldi, che mi sembra che abbia perso ieri in borsa il 6% o l'8% e dove è andata a fare il ponte dell'Astaldi? Non certo in Italia, il ponte dell'Astaldi lo fa sul Bosforo in Turchia, unendo Asia ed Europa, cioè una delle più grandi, più solide, più solide fino a un certo punto perché c'è un indebitamento elevatissimo, cioè una grande azienda italiana, romana, cosa fa? Il ponte lo costruisce in Turchia, non in Italia, la Turchia cresce al 4%, l'Italia all'1% se va bene, però la Turchia sta crollando secondo un complotto, bene Danilo Taino oggi sul Corriere della Sera che dà una sua interpretazione, devo dire, molto laica, liberista dal mio punto di vista dei complotti, i complotti ragazzi non ci sono, ci sono delle persone che speculano contro i paesi, lo fece Soros nel 1992 a ben vedere contro l'Inghilterra e l'Italia perché erano entrati nel mercato dello SME, cioè nel serpente monetario a valutazioni insostenibili, lo hanno fatto nel 2011 dove un complotto non ci fu, ma ci fu un interesse convergente di tante persone potenti contro un'Italia che non cresceva e dice Taino oggi il complotto non lo vedo come non lo vedevano quegli altri tre anni perché l'economia non è così, sta così crollando, ma la cattiva coscienza dei giornali italiani nei confronti di questo governo mi diverte che poi io faccio parte di una battuglia antipopulista, io vorrei che tutti quelli che si avvicinano e mi chiedono che cosa sarà il programma di Rete 4 vedessero la zuppa di porro, invece di rompermi le palle dicendomi come sarà il programma di Rete 4, insomma io tutti i giorni da 4 anni faccio una rassegna stampa in cui dico come la penso, sono populista, sono un antipopulista, sono un berlusconiano, sono un renziano, lo vedete qua insomma, quindi è inutile che lo chiedete, lo vedete tutti i giorni da 4 anni a questa parte, non so chi vi possa dare da 4 anni una zuppa tutti i giorni più o meno fresca, insomma il complotto contro questo governo io da un certo punto di vista in certe interpretazioni lo vedo, quando io vedo un'intervista a Siri, sottosegretario alle infrastrutture, vi giuro, intervista a Siri e non gliela fa Babbo Natale, gliela fa un giornalista quotato del Corriere della Sera, volessete vedere la domanda che fa il giornalista a Siri? Il governo sta pianificando il caos? Giuro, giuro, il governo sta pianificando il caos? Cioè un giornalista chiede a un sottosegretario la seguente domanda, fa la seguente domanda, il governo sta pianificando il caos? Secondo voi il sottosegretario che fa? Sì, sto pianificando il caos, guarda giornalista tu mi hai beccato, io sto per farti un culo così, sto pianificando il caos? Geniale, geniale la domanda, io dico e Siri risponde pure, ovviamente, perché ormai siamo abbinati tutti, noi facciamo questa domanda. Caro Siri, il governo sta pianificando il caos? Nel frattempo pagina 1 del Corriere della Sera, oggi, dalla Grecia, leggo, trascinato dalla Turchia lo spread a 280 e Piazza Affari la peggiore d'Europa, cazzo, io mi preoccupo, chiamo il mio broker e qui dico disinvestimi per favore i miei 50 milioni di euro che ho sulla lira turca, investimi i miei 50 miliardi su Novartis, non so, gli dico questo, poi vado un po' a vedere i dati e ieri Piazza Affari ha perso lo 0,58%, 0,58%, ma porca puttana, 0,58%? E la peggiore d'Europa? Sì, certo, perché Franco Porto, se lo avete quanto ha preso, ha perso 0,53%, cioè l'Italia 0,58% e la Germania 0,53%, ma io dico, vabbè, ho capito, la domanda fondamentale è ricordatevela, quando trovate un membro del governo, di questo o del futuro, ricordatevi, anche a Monti fategliela questa domanda, il governo sta pianificando il caos, giuro, giuro, questa è la domanda che hanno fatto a Siri, il governo sta pianificando il caos, detto questo, l'unica cosa significativa che è avvenuto ieri sulla grande crisi turca è una, una, e mi sembra che non sia stata affrettata, cioè è stata affrontata, ma non in sufficiente maniera, cioè è una riga nei pezzi, sapete chi si è presentato ieri a Istanbul? Ve lo dico io ad Ankara, scusatemi, non ad Istanbul, ad Ankara ovviamente, Levrov, chi è il plenipotenziario per il ministero degli esteri di Putin? Questa è la notizia, cioè che un paese nato che sta nella merda, con cui si sta litigando con Trump, vede una visita ufficiale da parte del ministro degli esteri russo. Vabbè, l'Aquarius, se andiamo un velo pietoso, mi diverte molto sta storia dell'Aquarius, che sembrava una idea di Salvini, non volerla più in Italia, oggi Gibilterra, scopro, gli vuole togliere la bandiera per cui è registrata, De Magistris nel frattempo non si smentisce mai, vuole che si avvicini al porto di Napoli, ma la cosa più divertente è che gli spagnoli dicono qua non attracchi. Bene, andiamo avanti sulle notizie di giornata. Beh, ecco, la Confindustria, scusatemi se mi autocito, ma da quando due giorni fa, anzi sabato, scrissi guardate Confindustria, batti un colpo perché mi sembra che il nord si stia incazzando con questo decreto dignità, ma Boccia è silente, spero che parli silente, leggetevelo il pezzo, lo trovate sul mio sito. Beh, sono passati tre giorni e Boccia parla, parla al messaggero e dice, potremo anche scendere in piazza, cosa che dice anche oggi Bonometti, il presidente della Confindustria Lombarda. Sallusti finalmente soddisfatto, Giordano sulla verità prende in giro la Confindustria, dice il primo girotonto di Confindustria con della valle nei panni di Nanni Moretti. Molto divertente il pezzo, come sempre, di Giordano, molto poco condivisibile perché non si riesce a capire come si possa difendere questo governo sul decreto dignità. Lo puoi difendere sull'Aquarius, lo puoi difendere sulla polemica nei confronti di Siri, lo puoi difendere su tante cose, ma adesso francamente difenderlo su questo decreto decretino dignità mi sembra incredibile per chiunque. Quindi il fatto che la Confindustria su questo lo attacchi e il fatto che non abbia attaccato la Confindustria a Renzi, Monti, ci sta tutto. Ma insomma, almeno una volta che si è svegliata, meglio tardi che mai. Sì, ne ho parlato, Andrea, del disastro di Genova, ma un disastro vero da tutti i punti di vista simbolici e sostanziali. Andiamo avanti sulle questioni dei giornali. A proposito di TAV, tutti i giornali citano il movimentista della TAV che molla i grillini perché dice su questo state scaldando la poltrona. La lite vera che c'è tra i grillini e il 5 Stelle invece riguarda le pensioni. E qui è molto semplice qual è la situazione. Dopo una velina passata alla Repubblica si litica tra Lega e Movimento 5 Stelle. Allora io mi chiedo e vi chiedo, ma il capogruppo della Lega, non del Movimento 5 Stelle che lo lascio perdere, il capogruppo della Lega che quel disegno di legge l'ha presentato e che il Repubblica ha preso e ha pubblicato nei giorni scorsi, cosa faceva? Dormiva quando firmava quel disegno di legge e il capogruppo della Lega che ha firmato il disegno di legge che vuole la riduzione delle pensioni è lo stesso capogruppo della Lega che il giorno dopo che è stato approvato il decreto dignità non è stato zitto, ma ha fatto un comunicato entusiastico su quel decreto dignità. Io capisco la realpolitik, cioè per l'immigrazione e per la flat tax magari stai un po' zitto quando passa il decreto dignità che non ti piace, ma fare un decreto entusiastico vuol dire godere di quella merda di decreto e allora se godi e firmi anche la lotta ai privilegi dei pensionati con quell'orribile disegno di legge che hanno presentato, allora due indizi fanno una prova, dice Orlando, non mi ha amato ma certamente un ragionamento si può fare sul fatto che una parte della Lega si sia un po' bevuta al cervello. Perché si è bevuta al cervello? Perché voleva ridurre le pensioni in funzione dell'età a cui si era andati nel passato, ma non l'età 19 anni, 15 anni, bevi pensioni, ma se hai fatto 40 anni o 41 o 42. C'è una roba che non solo non stava da nessun punto di vista giuridico di cui me ne fotto, ma dal punto di vista economico e di giustizia. Cioè tu non puoi a questi qua dirgli tu potevi andare con le regole a 61 anni nel 1992 e io invece non te ne accetto più quelle regole perché diventa una cosa veramente un po' complicata. Tra l'altro questa roba, oggi i giornali lo certificano tutti, riguarda 200.000 pensionati, quindi faranno male a 200.000 pensionati. Sapete quanti sono le pensioni erogate in Italia in un anno? 23 milioni. Quindi fanno male a 200.000 pensionati e daranno una parte di quello che ricavano, anzitutto quello che ricavano, a una parte di questi 23 milioni di pensionati. Beh, insomma, sapete quanto ricavano? 200-300 milioni. Meglio che nulla, ma insomma rompi un principio per 200-300 milioni, mi sembra incredibile. Messaggero oggi dà uno spunto che gli altri non danno, e cioè l'effusione tra Alitalia e ferrovia dello Stato, tutti ne strepiteranno, anche a me ovviamente mettere due baraconi pubblici insieme non la trovo forse l'idea più geniale del mondo, magari c'è qualche esperto che dice che la cosa funziona, tra l'altro, però una cosa bisogna notarla, che questa non è un'idea così originale, nel senso che ce l'ha pensato anche Letta prima di prendere il tiad, la trovate sul Messaggero tutta la storia di questa ipotesi di fusione tra l'Italia, make sense, sono quelle cose che odorano, mettiamo insieme gli aerei, i treni, facciamo una grande e gigante società dei trasporti italiani, allora perché non ci mettiamo, non so, anche i traghetti che vanno di merda, perché non ci mettiamo, non so, gli elicotteri di Stato, mettiamoci tutto insieme, perché no, facciamo questa cosa razionale funziona, purtroppo l'economia non è fatta così, non si fa mettendo insieme storie, aziende diverse, manager diversi, strutture diverse, culture diverse, pensando che così risolvi i problemi, così si annaquano i problemi e i debiti e si spostano a 5 anni, si mette tutto sotto la polvere, immaginate soltanto che da quando è nata l'alta velocità, cioè negli ultimi 11 anni si sono fatti un mazzo così all'Italia e ferrovie dello Stato, per il semplice motivo che devono essere in concorrenza, sulla rattratta che un tempo era più importante per l'Italia, cioè la Trorino-Milano, la Milano-Roma, che è passata da 144 milioni di fatturato per l'Italia a 77, mettiamo tutto insieme e che facciamo? Riduciamo il treno, riduciamo l'aereo, tutto questo magari per fare un bel monopolio per cui il passeggero non ha più alternativa, se non quella di prendere questo grande molo calitario, ferrovie dello Stato, fantastico, no? Possiamo farlo solo con loro oppure la macchina finché non cadono i viadotti. L'ultime due cose che vi segnalo sono la prima, quella di pagina 2 e 3 di Saviano oggi su Repubblica, che è per chi voglia suicidarsi, però c'è un po' di giorni per leggerci, pagina 2 e pagina 3 con un solo concetto, siccome Salvini è andato in Calabria e invece dovrebbe andare lì a chiedere scusa perché per tanto tempo la Lega ha sottovalutato la presenza dell'Andrangheta, non sono al Colosseo, sono in Grecia, ha sottovalutato il peso dell'Andrangheta al nord, questo dice Salvini e dice Saviano, quindi per tre pagine ci spiega che Salvini deve andare al sud a chiedere scusa perché lui aveva sempre avuto questo pregiudizio nei confronti dei militari, milionali, mafiosi che fanno schifo, invece il nord era pulito, diceva Salvini, invece il nord è pieno di mafiosi andranghetisti, perfetto, che chieda scusa Salvini, a me interessa molto poco, ma chiedo a Saviano, ma tu hai chiesto scusa ai due signori con nome e cognome a cui tu hai dato del camorrista nel tuo libro e che hanno vinto le cause in tribunale, hai chiesto scusa ai numerosi giornalisti che tu hai plagiato secondo delle sentenze dei tribunali e a cui non hai mai chiesto scusa, non so se gli hai dato i soldi, probabilmente sì perché ti ho obbligato il tribunale, fermati tutto, invece di fare a Salvini questo grande processo, fatti un piccolo esame di coscienza per quello che riguarda la tua piccola carriera, cioè quella di essere nata, soprattutto come abbiamo visto ieri sulla verità con il pezzo di Daniele Capezzone, sulle spalle di gente che poi alla fine quelle robe che tu accusavi per fatto non ha fatto. Ultima questione, questa la faccio perché, eh sì hai ragione, grazie, non parlate più di Saviano, avete ragione voi, però adesso io vi faccio quest'ultima notazione, una giornata grave come quella di oggi perché voglio che qualcuno di voi si arrabbi con il sottoscritto. Arrabbiatevi, analimalisti, cercate di arrivare tutti qua e cercate di prendere i miei occhi e arrabbiatevi. Oggi sul Corriere della Sera, pagina, non so, 40, c'è un'intervista a una cantante che io purtroppo non conosco, si chiama Alessandra Amoroso, probabilmente avrò sentito le sue canzoni e della pattuglia di amici, quindi gli intoccabili protetti dalla mano divina di Maurizio Costanzo e di Maria De Filippi, ma questo non c'entra nulla. Insomma, questa Alessandra Amoroso, questa cantante importantissima, che sarà molto bravo e sono abbastanza sicuro che sia brava, perché in questo sono dei talent scout, i due coniugi, dice, non riguarda la musica, dice la seguente cosa, ho perso il nonno, quest'anno è stata tremenda per me, è stato un anno buio, perché ho perso la nonna e il cane. Sentite bene, quest'anno è stato tremendo perché ho perso la nonna e il cane. Allora, io voglio chiedere a voi se siamo tutti completamente rincoglioniti o qualcuno di noi trova l'intruso. Io amo i cani, amo i gatti, ho dei cani, l'ho sempre avuti sin da piccolo, così come ho avuto dei nonni, ma secondo voi possiamo mettere sullo stesso piano la nonna e il cane? Possiamo mettere la nonna e il cane, la morte di tua nonna? Vai in chiesa, vai al comune, vai al funerale, piangi, i rapporti che hai avuto, il fatto che ti teneva a casa e la morte del tuo cagnolino adorato, amato, li possiamo mettere sullo stesso piano, no? Io ve lo chiedo, io ve lo chiedo, io vi chiedo se tu puoi mettere sullo stesso piano le due cose. Io voglio chiederlo ai milioni di animalisti che mi ascoltano, alle centinaia di miliardi di persone che hanno cani, topi, bisce, animali a casa, tu puoi mettere sullo stesso piano la morte di tua nonna e la morte del tuo cane? Puoi dire sono rimasto molto male perché è morto il mio cane, certo, certo, io ho visto le persone a cui è morto il cane, quando mi è morto il cane ho morto la mia famiglia, i cani che avevamo, i pastori tedeschi, siamo stati tutti dispiaciuti, ma se siamo in una società per cui una nonna vale un cane, siamo in una società di merda, non una società evoluta, non una società in cui ci sono maggiori diritti per tutti quanti, una società allucinante, la società per cui oggi sul Messaggero, unico giornale, prima pagina, cita il movimento a difesa dei topi a Parigi, prima pagina della Repubblica del Messaggero di oggi, c'è un movimento a difesa dei topi che essendo 5 milioni a Parigi più dei cittadini cercano di essere sterminati dagli esseri umani, perché non vogliono più i topi e c'è il movimento a difesa dei topi, la nonna, il cane, i topi, nel frattempo a Genova cadono purtroppo i viadotti. Con questa tragica notizia, che è veramente tragica, non dell'amoroso, ma di Genova, vi saluto e vi do appuntamento nei prossimi giorni, ciao!